Buonasera alla professoressa Eva Cantarella, buonasera al professor Luciano Canfora, avremo davanti un'oretta abbondante, vi dico cosa succede in quest'ora così almeno siamo tutti edotti e preparati. Cominceremo con un intervento della professoressa Cantarella a cui seguirà un intervento del professor Canfora, a cui seguirà un dibattito credo acceso tra i due e finiremo con la possibilità per voi di porre delle domande a una condizione non negoziabile, cioè che siano domande che non siano lunghe cinque minuti in modo da dare la possibilità a tutti di porle se vogliono. Quindi messe sul tavolo le intenzioni e le condizioni andiamo a iniziare e in realtà iniziamo un po' pop, nel senso che venendo qui ero in treno, ho iniziato a guardare i social e sono incappata nella polemica del giorno che ci fa proprio da assist per la nostra riflessione di questa sera. Si parla di Renatino. Renatino è il protagonista di uno spot del Parmigiano Reggiano, l'avete visto gli spot del Parmigiano Reggiano fatti da Paolo Genovese, insomma sono appuntate. Nella puntata che sta andando in onda in questi giorni il gruppo di studenti che vanno alla scoperta del Parmigiano Reggiano e dei saperi legati al Parmigiano Reggiano si imbattono in Renatino. Renatino è l'uomo che materialmente fa le forme di formaggio e c'è un dialogo che recita più o meno, vado a memoria, ma recita più o meno così. Ah ma quindi tu sei Renatino? Sì. E lavori qui 365 giorni all'anno? Lui dice sì. E sei felice? Sì. E quindi la polemica è la schiavitù di Renatino nella pubblicità del Parmigiano Reggiano con tutte le derive social che potete facilmente immaginare, cioè sindacalizziamo Renatino, liberiamo free Renatino, insomma è la polemica del giorno, ma la prendiamo a ridere. Il tema in realtà è molto serio, molto attuale, è polimorfo, insomma prende varie forme anche più complesse di quella di Renatino. È un tema che ha a che fare ovviamente con cosa si intenda per libertà in un momento in cui la usiamo forse anche a sproposito questa paura, questa paura, questa parola, l'absos non è male. La libertà per esempio, faccio l'esempio più attuale di tutti, cioè la libertà brandita da chi rinuncia alla possibilità di vaccinarsi in nome della propria autodeterminazione e lì si pone appunto la questione del confine tra le libertà che ci sono in campo, la libertà della comunità e la libertà del singolo. Ci arriviamo, ci arriviamo però partendo da lontano e partiamo dal campo di lezione degli studi della professoressa Cantarella, cominciamo dai poemi omerici e dall'autodeterminazione, dall'idea di libertà che lì è rappresentata e raccontata per capire poi quanta ce n'è arrivata qui da noi, da quei tempi. Qual era la... il microfono non ce n'è lì. Sì. Dunque, com'era la libertà in Omero. Dunque, faccio una piccolissima premessa. Avevo pensato di parlare, di partire, l'idea era, in primo momento avevo detto schiavità, libertà e schiavitù, parliamo della schiavitù in Omero. Poi ho visto prima di tutto che domani parlerà Giorgio Ierano su questa cosa e quindi non era il caso. Ma ecco, prima di arrivare a dire posso non parlarne io perché ne parla lui, avevo fatto una serie di riflessioni. Voglio spiegare perché tutto sommato sono contenta di parlare della libertà. Perché il tema della schiavitù in Omero è un tema complicatissimo. È un tema complicatissimo perché quando noi parliamo di schiavitù, senza volere, pensiamo alla schiavitù greco-romana, la schiavitù classica. Bene, applicata al mondo americo, secondo me questo non funziona per niente. Quindi avrei dovuto cercare di dimostrare perché per me era così. Per fortuna non devo farlo, domani ascolterò, ieri no. E allora a questo punto passo, sono passata, ho detto è meglio parlare della libertà in Omero. Invece, che cos'è la libertà in Omero? Bene, che cos'è la libertà in Omero? È stato oggetto, l'argomento, esiste la libertà, cioè l'uomo americo è libero. Cosa intende, ecco, che cosa intendiamo di libertà quando parliamo di Omero? L'uomo, scusate l'uomo, la persona, l'individuo, il soggetto, ecco, chiamiamolo il soggetto così non abbiamo problemi di genere, il soggetto omerico è o non è libero, diciamo, di autodeterminarsi? È consapevole del fatto che le azioni, i suoi comportamenti, li ha scelti lui, li ha determinati lui? Questo è il problema che Omero ci aiuta a risolvere, perché ovviamente la prima fonte alla quale possiamo rivolgerci non può essere, è la più adatta, oltre che essere la prima è perfetta per farlo. C'è stato un dibattito plurisecolare su questa cosa, nell'Ottocento Bruno Snello, un famosissimo filologo, ha detto no, assolutamente, l'uomo americo, il soggetto americo non aveva la minima percezione di potersi autodeterminare, perché non aveva neanche la percezione di sé come di un tutto unico. Soma, secondo lui, la parola Soma non aveva l'idea né del corpo né del Soma, perché quando si descriveva, si descriveva parlando dei pezzi del corpo, cross, la pelle, milia, le mie, quindi non c'è nessuna idea di possibile autodeterminazione. Poi c'è stata una famosa teoria che diceva invece una cosa a metà, questo era un austriaco, la teoria della doppia motivazione, l'individuo americo è mosso in parte dagli dèi, in parte da una forza superiore che sono gli dèi, in parte lui, ma comunque quello che conta è il risultato dell'azione, per cui l'individuo risponde comunque. E poi finalmente, voglio dire, all'inizio del secolo scorso, nei primi decenni, sono arrivate quelle della teoria più o meno del libero arbitrio, cito un numero, Dolfo Mondolfo per esempio. Allora, l'individuo americo è capace di autodeterminarsi ed in effetti bisogna dire, già all'inizio, partiamo dall'odissea che forse è la più adatta tra i poemi omerici, già all'inizio Zeus dice, ah, quante colpe ci fanno i mortali attribuendo a noi i mari che si sono provocati loro? Per esempio Egisto, gli abbiamo detto, non fare quello che è fatto, sappiamo bene, sapete tutti benissimo quello che ha fatto, ci sarebbe quello che sarebbe successo, ma lui ha voluto farlo lo stesso. Ecco, quindi c'è questa idea e c'è una, nelle fonti c'è ogni Omero, Omero come sapete, diciamo Omero ma sappiamo i poemi omerici, hanno avuto un autore, due autori o mille autori tutti confluiti, poi non possiamo certo entrare in questo dibattito, ma il testo che abbiamo riflette, per nostra fortuna, per questo dicevo è il testo più adatto per dare una risposta alla nostra domanda, riflette momenti storici diversi, perché per esempio alcuni oggetti materiali risalgono a un'epoca scartata, l'idea naturalmente che rifletta l'età micenea dopo la decifrazione della lineare B, questo è scartato, no? Ma ci sono degli oggetti che però rimandano a un'epoca molto antica, degli oggetti invece che rimandano, quindi è una fonte che attesta anche il cambiamento di mentalità nei secoli e attesta anche il momento nel quale l'individuo americo comincia a percepire di essere, di autodeterminarsi. Lo fa perché in Omero, vedete, noi in Omero troviamo l'idea che gli atti, vedete, i nostri comportamenti possono essere volontari o involontari, nasce l'idea della possibile volontarietà delle azioni. E come lo sappiamo? Beh, perché in Omero troviamo, non dico una classificazione, ma una prima indicazione degli comportamenti che implicano, che quindi l'azione non è stata scelta volontariamente, deliberatamente. E quali sono le cause? Beh, la prima causa è l'ordine superiore. Quando Araraldo arriva da Achille a prendere il Briseide, che come sapete Agamè non ha detto di portare via, lui dice, beh, non siete voi Aetioi, questa è una parola importante, perché lo slittamento del significato di questa parola, grazie, è molto importante. Non siete voi Aetioi, perché avete, non potevate, quindi, l'ordine superiore, la violenza fisica naturalmente, su questo non c'è bisogno, e anche la violenza psichica. Per esempio Penelope, Penelope non voleva, ecco, non voleva fare, tenere una serie di comportamenti ai quali è stata costretta dai proci. E addirittura si arriva a dire che non è volontario neanche il comportamento tenuto, ovvero dice, catatsumon, questo è patroclon, che quando nell'Ade dice ad Achille, seppellisci il tuo osso insieme alle mie, dice, siamo cresciuti assieme, fin da quando io ho commesso un triste omicidio, dice, irato, irato per i dadi, catantargalo viscolo seis, irato per i dadi, cioè le situazioni emotive che impediscono il ragionamento portano a un'azione involontaria. Questo in Omero, perché poi in Aristotele diventa invece volontaria, ma all'inizio è involontaria. Quindi vedete che Omero individua le case della volontarietà e dell'involontarietà degli atti. E questo ha delle conseguenze importantissime sulla responsabilità, perché in un primo momento l'aver agito involontariamente non comporta responsabilità morale, ma continua a portare, cioè la responsabilità materiale rimane, cioè le conseguenze sono le stesse, cioè il rapporto causa-effetto, un comportamento è l'effetto che produce. Moralmente sono scusato, ma però subisco le conseguenze, che può essere la vendetta, per esempio. E poi diventano anche invece causa di esclusione della responsabilità materiale. E dove si prova tutto questo, la fine dell'evoluzione? Beh, si trova sempre in Omero, nell'Odissea. Allora, nell'Odissea, arriviamo alla fine, alla strage dei Proci, e dopo la strage, Omero punisce i suoi dipendenti, punisce i suoi dipendenti, punisce le ancelle, questo è un bel tra l'altro schiave o non schiave? Ulisse. Ulisse, cosa ho detto? Omero, no, volevo dire Ulisse. Faceva per vedere se eravamo stenti. Sì, allora, schiave o non schiave non importa, erano, ecco, secondo me, erano, però, diciamo, punisce solo i suoi dipendenti, probabilmente secondo me non a livello cittadino, ma non importa, solamente a livello familiare, e le punisce. Punisce solo quelle che erano colpevole. Invece risparmia alcuni personaggi, perché, per esempio, risparmia l'Araldo e l'Aedo, perché, come gli dice il suo, lui sta per ucciderli, per punirli, no? come capo della famiglia, ripeto, non ancora, ma il suo figlio, lui gli dice, guarda che non sono, dice, sono stati costretti, hanno detto ananche, quindi con la violenza, volare o morale o fisica, non si sa, probabilmente in quel caso morale, e allora lui li risparmia perché dice, dice Telemico, dice di uno in particolare, è anaitios, vedete questa parola. Quindi la parola aetios, c'è lo slittamento importante della parola aetios che passa da individuare solamente il rapporto causa-effetto alla responsabilità. Alla responsabilità, ecco, la mancanza di volontarietà è causa di, ha delle conseguenze anche sulla responsabilità materiale che, appunto, non c'è più. Si è responsabili materialmente solo delle azioni compiute volontariamente. E allora in Omero nasce, che cosa? Nasce un'etica nuova, nasce l'idea della volontà, nasce l'idea che l'essere umano può essere libro nel senso che è capace di autodeterminarsi, a quella che gli inglesi chiamano la authorship, consapevolezza di essere autore di un certo risultato, porta a questo e porta alla nascita di una responsabilità diversa, che è un'etica diversa, che è l'etica della responsabilità, che poi finisco perché sto parlando forse troppo. Sono ancora in tempo. Beh, è interessante, questa etica della responsabilità che Ulisse afferma in famiglia, no? Beh, di lì a poco, ad Atene, diventa etica cittadina. Beh, perché nel 621 avanti Cristo draconte, o dracone come volete voi, emana la prima legge. La legge è una copia che è fatta dagli anagrafei del V secolo, si trova al Museo archeologico di Atene, epigrafico scusate, di Atene. È una legge che per la prima volta, che cosa fa? Cancella la cultura della vendetta e dice che l'omicidio è un fonos, fonos è un comportamento punibile. No, punibile come? Con la pena di morte se è volontario e con l'osilio se è involontario. Quindi vedete questa, l'etica della responsabilità, tra l'altro graduata, passa da loikos alla polis. ed è l'etica ancora nostra, perché è il principio, questi principi che troviamo affermati in Omero per la prima volta, beh, sono quelli che sono ancora alla base della nostra etica e anche del nostro diritto, perché anche nel nostro diritto noi rispondiamo solamente a degli atti che abbiamo compiuto volontariamente. Quindi ecco, ho cercato di condensare in questo spazio quello che volevo dire sulla libertà in Omero. Grazie. Grazie. Alla professoressa Cantarella, di cui conserverò di questo suo spazio, tra le tante cose... Scusa, facevo segno prima, ci sento poco. No, no, basta tenere così, sento meglio. No, dicevo, mi piace questa idea di Zeus, storico delle religioni, no? Che imputa all'uomo di addossare le proprie colpe alle divinità. Cioè, questa immagine di Zeus l'avevo rimossa dagli studi del liceo. Però adesso passo alla mia sinistra e passo anche, diciamo, a un altro approccio. In questa ricostruzione, no? Perché, appunto, la professoressa Cantarella ha ripercorso attraverso i poemi omerici l'evoluzione della... che ha portato alla codificazione, mi viene da dire, del concetto di responsabilità e quindi di libertà e di volontarietà delle proprie azioni. che però è, diciamo, l'altro lato della medaglia rispetto alla schiavitù. Cioè, lo schiavo, questi problemi non ce l'ha, mi verrebbe da dire, perché volontario o no, la condizione è quella. Ma la domanda è, è una condizione univoca? È una condizione che si, diciamo, si declina in modi diversi secondo l'epoca, secondo le aree geografiche e secondo gli stadi evolutivi appena... Ora vediamo, entriamo lento pede in questo argomento. Si potrebbe partire da alcune notizie, non quelle ultimissime che ci ha dato lei, Renatino lo lasciamo dove sta. Ma relativamente recenti. 19 di febbraio del 1995 un importante giornale italiano, il Corriere della Sera, pubblica una notizia. Il Senato del Mississippi, uno dei baluardi, il testo del giornale questo, uno dei baluardi del razzismo degli Stati Uniti, ha approvato il tredicesimo emendamento della Costituzione americana siglato nel 1865, 1865, secondo cui la schiavitù volontaria o involontaria non potrà esistere entro i confini degli Stati Uniti, 1995. Io raccontai questa cosa in un convegno, c'era un docente che balzò su questa pedana dicendo non è vero, in realtà era il New York Times che aveva dato questa notizia e anzi era stata molto combattuta la decisione, il Senato del Mississippi si era diviso su questa decisione. Uno potrebbe dire un relitto, un avanzo storico, residuale, eccetera. Facciamo un passo indietro. 1794, quindi un bel salto all'indietro, direi di due secoli, Convenzione nazionale a Parigi su proposta di un personaggio rilevante, finito tragicamente, e cioè Georges Danton, viene abrogata la schiavitù coloniale, avendo la Francia una serie di colonie nelle Antille soprattutto, Guadalupo, Martinica, eccetera. Grande trionfo di questa proposta, c'è anche un convenzionale di colore nero, si chiamava Toussaint Louverture, soprannominato il Robespierre nero, abbracci, entusiasmo, eccetera. Però la cosa rimane del tutto inoperante perché la Francia intanto ha perso le colonie che sono passate all'Inghilterra, l'Inghilterra liberale ripristina la schiavitù in colonia come necessaria, diciamo, all'ordine etico. 1848, la seconda Repubblica Francese, su iniziativa di un personaggio che è stato anche un grande storico della schiavitù, si chiamava Henri Vallon, abroga la schiavitù. Quindi questa schiavitù tutto sommato ha una vitalità plurisecolare e se andiamo ancora un pochino indietro potremmo dire che un grande pensatore liberale al quale spesso tanti si richiamano come John Locke aveva i suoi interessi nella tratta dei neri. Poi potremmo anche soggiungere un fenomeno un po' curioso ma interessante, un libro memorabile La Démocracia en Amérique di Tocqueville è un libro che viene citato moltissimo soprattutto da quelli che non l'hanno letto come succede molto spesso. Non si parla mai del problema che negli Stati Uniti del 1830-35 e 40 che sono i tre anni concezione, primo volume, secondo volume dell'opera di Tocqueville è il problema dei problemi che sfocerà poi nella guerra del 1861-65 appunto con l'esito che sappiamo. Nel libro di Tocqueville si parla appunto del fenomeno della democrazia che lui considera con un certo disagio il conte di Tocqueville lui dice abborro la folla eccetera però si rende conto dice quello è il nostro futuro l'Europa prima o poi sarà così. Invece nei tacquini preparatori che sono conservati sono stati pubblicati anche abbastanza di recente diciamo così del lavoro sulla democrazia lui più volte torna su questo problema che gli sembra assolutamente marginale. Completiamo questa rassegna brevissima con un testo non meno celebre 1848 anzi scritto alla fine dell'anno precedente ma insomma pubblicato nel febbraio del 48 il manifesto dei comunisti di Marx e di Engels che si apre con un famosissimo capitolo in cui si dice la storia è sempre stata storia di lotte di classe schiavi e padroni servi della gleba proprietari patrizi plebei proletari borghesi ora 1848 è la prodo storico decisivo la borghesia ha creato il suo nemico che la sconfiggerà in questo in questo quadro molto sommario la schiavitù è presentata come un un relitto del passato di epoche storiche remotissime forse è una prospettiva errata lo diciamo con tutto il rispetto per questo grande studioso che fu Marx il quale peraltro poi diede un contributo alla conoscenza della guerra civile americana perché per vivere faceva il corrispondente di giornali europei che raccontavano quelle vicende e quindi c'è una sua diciamo partecipazione giornalistica alla vicenda della guerra di secessione allora siccome abbiamo un quadro plurisecolare di un fenomeno che nel passare dei secoli si trasforma non è male osservare che nel tempo nostro cioè proprio nel neonato ventunesimo secolo la schiavitù sta ritornando come fenomeno a parte quello ricordato all'inizio come fenomeno non marginale ci sono denunce in tal senso di vario tipo di carattere diciamo etico religioso ma anche di carattere tecnico sociologico analitico ci sono rapporti delle Nazioni Unite sulla presenza massiccia della schiavitù su scala planetaria la delocalizzazione di produzioni poco costose se realizzate in mondi dove non c'è nessun diritto né sindacale né di altro tipo riproduce il fenomeno del profitto totale quindi scandire la storia umana stabilendo che la schiavitù appartiene a un mondo antico più o meno definibile con i suoi confini è una prospettiva che è decisamente parziale oggi ci potremmo domandare se addirittura il ritorno della schiavitù non sia la forma più aggiornata del profitto che fa parte della produzione capitalistica il profitto è l'anima della produzione della produzione capitalistica nella guerra di secessione americana curiosamente o non curiosamente insomma i democratici erano schiavisti i repubblicani erano abrogazionisti la discussione la discussione però ebbe anche un aspetto che ci riguarda visto che siamo alle prese col mondo antico e cioè il modello ateniese un personaggio molto interessante che era stato vicepresidente degli Stati Uniti fino al momento della guerra poi cappeggiò i sudisti Kellun si chiamava fu promotore di una serie di studi pubblicistica di alto livello potremmo dire in cui si sviluppava un concetto che cioè la schiavitù come era nelle piantagioni del sud era filantropica o meglio comportava una tutela dello schiavo nell'intero arco della sua vita nell'ambito della famiglia catoniana potremmo dire la famiglia dell'agricoltura di Catone potremmo dire il vecchio Catone cioè di una realtà in cui la produzione è incentrata sulla proprietà familiare vastissima con un numero cospicuo di schiavi i quali però a certe condizioni di subalternità assoluta sono tutelati mentre invece la pubblicistica alla quale mi riferisco sviluppava un argomento polemico verso il nord abrogazionista l'operaio di fabbrica muore a 40 anni a tali condizioni di lavoro stressanti un orario di lavoro dilatato fino all'inverosimile da essere destinato ad una sorte ben più triste di quella dello schiavo delle piantagioni poi naturalmente la guerra andò come andò la prorogazione ci fu di fatto la schiavitù fu soppiantata nel ciclo produttivo dalla massa notevole di immigrati essenzialmente da paesi poveri dell'Europa i quali furono il surrogato degli schiavi arcaici delle piantagioni del sud però l'argomento del carattere paternalistico del rapporto schiavo padrone nelle piantagioni ci porta non soltanto all'argomentazione un po' strumentale di questo personaggio che ho prima ricordato ma ci porta invece alla realtà antica alla quale ora brevissimamente faccio riferimento e cioè la schiavitù di tipo ilotico cosa voglio dire si usa questo termine a parte che ci sono tante parole diverse che indicano la condizione di schiavo anche andrapodon per esempio che l'equivalente umano di tetrapodon che invece è l'animale a quattro zampe mentre l'andrapodon è un animale a due zampe schiavo e per Aristotele sono un genere umano di seconda classe ma ancora molto dopo di lui un personaggio uno storico o compilatore di storia di epoca del secondo secolo dopo Cristo quindi svariati secoli dopo Aristotele che si chiamava neo o annio floro quando racconta le guerre vinte dai romani tutte vinte naturalmente anche contro gli schiavi anche contro Spartaco quando parla di Spartaco dice non so come definire questa guerra perché e spiega perché ha un suo imbarazzo dice certo si trattava di un genere umano di secondo tipo quindi quindi l'idea dell'inferiorità biologica dello schiavo rispetto a macchina parlante rispetto al libero è molto radicata in una cultura che come vediamo ha una ramificazione nei secoli e nelle correnti di pensiero scalzare questo pregiudizio fu molto difficile però ecco la pluralità di termini di lessico indica anche una pluralità di condizione Atene Sparta usiamo due modelli canonici noti o presumibilmente noti nella presentazione diciamo un po' retorica patriottica non so come definirla largamente ottocentesca Atene il bene e Sparta il male più o meno come Achille è cattivo e Ettore è buono non ci sono questi pregiudizi striscianti che circolano però hanno un qualche fondamento e non siano totalmente inventati perché? ma perché Atene è la sede dell'esperimento democratico del potere assembleare sostanzialmente no? poi analizzandolo meglio si scopre che è una minoranza politicizzata che governa va bene da Solone in avanti quindi poco dopo il tuo draconte la liberazione dalla schiavitù per debiti che Solone afferma e sancisce alcuni maliziosamente dissero lo fece per certi suoi interessi personali ma noi non crediamo alle malizie assolutamente noi siamo per Solone e basta ma il provvedimento che salvò dal precipitare nella condizione di schiavo tantissimi indebitati come dice giustamente bellissima pagina Moses Finley stabilì un baratro tra il libero e lo schiavo un baratro incolmabile tranne procedure di affrancamento individuale a determinate condizioni ma comunque due mondi che non possono e non debbono comunicare le non persone e le persone mondo spartano mondo spartano tutt'altro che raccomandabile per mille motivi non dobbiamo capovolgere alcuni concetti che hanno un loro fondamento ma la peculiarità di quella esperienza di quella realtà è la progressiva discesa verso la condizione schiavile cioè quel baratro che Solone ha stabilito lì non c'è perché c'è invece la condizione dei liberi assolutamente liberi uguali gli spartiati puro sangue diceva il Führer Sparta è lo stato razziale perfetto va bene e questo è allarmante per noi naturalmente gli spartiati sono puro sangue perché sono odori sono purissimi razzialmente cose da pazzi in sostanza uguali tra loro non toccano la moneta l'arrivo della moneta corrompe e alcuni teorici ateniesi come i Socrati dicono l'uguaglianza perfetta è quella di Sparta poi ci sono i perieci più sotto ancora ci sono gli iloti gli iloti hanno un loro lotto di terra che amministrano coltivano però devono cedere la gran parte del prodotto agli spartiati i quali fanno solo la guerra non mangiano il prodotto del lavoro altrui si vestono del prodotto di lavoro altrui eccetera le armi che usano sono fatte da altri in condizioni di totale subalternità quindi la condizione ilotica rassomiglia più alla servitù della gleba medievale che non allo schiavo merce ateniese che può essere venduto comprato e che per lo più è un prigioniero di guerra nel caso della realtà laconica di questo peloponneso che ha una curiosa struttura non ci sono le città noi parliamo di Sparta ma Sparta non è una vera e propria città dice Tusciti vivevano catacomas in villaggi con i luoghi centrali del potere naturalmente l'assemblea la appella si riunisce in un posto ben preciso questo modello può essere idealizzato ed è stato idealizzato talvolta anche da pensatori importanti come Posidonio di Apamea al tempo di Cicerone di Pompeo con l'idea che è protettivo come la schiavitù delle piantagioni del sud degli Stati Uniti nella Tessaglia che sta al nord della Grecia ci sono altri di questo tipo si chiamavano Penesti poi possiamo andare in altre aree e hanno un altro nome Dorifori per esempio allora nel nord nella Grecità del nord nel Peloponneso la schiavitù si presenta in questa forma di solito è una popolazione che ha occupato un territorio lo ha soverchiato e ha messo in condizione di inferiorità chi già c'era che però si ribella gli schiavi ilotici saranno stati anche trattati benino secondo Posidonio che aveva le sue idee ma non ne aveva esperienza diretta erano terrorizzati perché molto numerosi e quindi gli spartiati erano pochi poteva accadere però un caso limite sul quale poi mi fermo se no strabordo anche perché gli spunti sono già tipo 622 sono troppi ironia della storia potremmo dire gli spartiati sono pochi l'abbiamo già detto quando cento di loro cento non trecento come di solito si dice ma cento vengono presi prigionieri dagli Atenesi nell'isoletta di Sfacteria Sparta chiede la pace perché cento spartiati di meno di botto sono come perdere l'Ucraina per l'Unione Sovietica ecco c'è un pezzo enorme Atene non concede la pace naturalmente le guerre frequenti sempre via terra che Sparta conduce portano all'oligantropia come veniva chiamata cioè al ridursi progressivamente della popolazione libera e uguale che sta in alto in caso di necessità si provvede bruscamente allora si prendono degli iloti si devono accoppiare con donne spartiate e producono degli spartiati che si chiamano epeunatti perché sono nati su quel letto il letto che era dello spartiata morto in guerra un rituale piuttosto brutale diciamo così quasi da terzo reich da allevamento l'Ebbensborn l'esperienza delle SS di Himmler l'Ebbensborn era il luogo dove delle donne ariane dovevano produrre degli ariani d'acquero degli spostati versioni patologiche al massimo naturalmente ecco mi fermo qui ma credo che il quadro che ne viene fuori sia molto diversificato un fenomeno che ha tante facce che dura molto a lungo infatti tutte le facce però insomma io ho fermato l'applauso che stava partendo quindi mi fermo abbiamo parlato di cose tristissime ci sono modi più noiosi per parlarne quindi però voleva no 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 dico tutte le facce diciamo descritte diciamo il processo descritto dalla professoressa Cantarella e le facce del fenomeno che sono emerse dall'intervento del professor Canfora in realtà le vediamo tutte cioè lei parlava faceva esempi lontanissimi nel tempo e io immaginavo gente che mi somiglia e che fa cose più o meno che faccio io tipo ed è una domanda che faccio a entrambi cioè il professore parlava della schiavitù filantropica no questa insomma quella vista negli Stati Uniti nelle piantagioni vista in Grecia nella Grecia antica ma non è la stessa che propone la mafia per dire cioè il patto sociale avariato che c'è tra la manovalanza mafiosa e l'istituzione mafiosa non è proprio quella tutela a vita della vita neanche troppo perché poi spesso la manovalanza è la prima di metterci le penne però diciamo è quella promessa di protezione a vita in cambio della rinuncia all'autodeterminazione è arrivando ai giorni nostri questa un'altra faccia di quella lei prima parlava del del primo soggetto medico come un soggetto medico che non ha percezione della completezza di sé se pensiamo all'apparanza dei bambini diciamo raccontata da Saviano ma da mille altri si ha quella sensazione lì no? non è una declinazione moderna assolutamente ma volevo posso cominciare dovete dovete io do spunti ma voi dovete assolutamente interloquire perché è vero assolutamente quello che fa allora dicevo questo il riferimento alla servitù ilotica no? alla schiavitù ilotica è vero è radicalmente diversa è radicalmente diversa da quella atenese perché esistono moltissime forme ma è molto più simile a quella per esempio Micenea esistono anche le schiavitù nelle quali le schiavitù quelle che Marx chiamava parlava del modo di produzione erratico asservimento generalizzato della popolazione no? in Grecia c'è questo fenomeno chiarissimo voglio dire gli iloti non voglio dire non voglio azzardarmi a dire delle cose folli ma io vedo delle somiglianze veramente impressionanti fra gli iloti e la servitù e la servitù generalizzata della Grecia Micenea cioè non so se poi si può fare un salto folle e dire chi lo sa degli iloti non si sa mai sono prigionieri di guerra perché sono iloti ma non ci sia un qualche in qualche modo legame fra le due cose o quantomeno una somiglianza e poi volevo dire un'altra cosa che era questa che tu hai fatto vedere benissimo tutta questa quantità di la differenza e le graduazioni anche no? di di assoggettamento degli schiavi a Roma c'è anche la stessa cosa anche a Roma nel mondo romano troviamo delle forme di assoggettamento anzi addirittura che sono a metà fra la libertà e la servitù mi vengono in mente per esempio mi viene in mente una categoria di romani stiamo parlando di un'età si chiamano iuniani perché si fa riferimento a una lex che si chiama è la lex Julian Urbana e tali di Tiberio quindi che stabilisce questo? voi sapete che a Roma gli schiavi manomessi diventavano cittadini a differenza che è in Grecia ecco allora a un certo punto questa lex Julian Urbana stabilisce che quelli che sono gli schiavi che sono stati manomessi ma non nelle tre forme ci sono tre forme le tre forme canoniche sono censo testamento e vendita vuol dire o lo iscrivi al censo o lo nomini nel testamento oppure con la vendita con un processo c'erano però delle forme che venivano chiamate così per esempio per mensam se tu davanti a tutti i tuoi amici pubblicamente durante un banchetto lo dichiaravi valeva allora l'ex Julian Urbana stabilisce che il cittadino lo schiavo che è stato liberato per mensam non acquista la cittadinanza romana e va bene ma non è tanto questo è che alla sua morte lui può quindi essendo libero può acquistare delle proprietà diventare ricchissimo ma non può disporre né inter vivos né morte a causa di tutto quello che fa e alla sua morte torna al padrone allora tant'è vero che le fonti dicono che vivont come liberi ut liberi e muoiono ut servi ecco ci sono delle forme di questo genere anche nel mondo romano proprio nel momento più impensabile era solo una alcune tre mille considerazioni che mi venivano ascoltandoti sì la la cesura che c'è fra l'età micenea è il cosiddetto medioevo greco è tale per cui è difficile ma la vera differenza che rende poi questi fenomeni l'uno diverso dall'altro è numerica cioè quanti sono noi parliamo sempre di schiavi eccetera ma quanti erano come si diventava schiavo e questo è un tema incandescente perché i moderni si accapigliano perciò ogni tanto io mi rileggo quelle pagine finali del sesto libro di un libro noiosissimo in realtà ma molto utile i famosi sofisti a banchetto dei pno sofisti di Ateneo di Naucrati un'opera cospicua appunto è un'enciclopedia camuffata da dialogo a tavola un pranzo che non finisce mai naturalmente perché sono libri e libri in cui questi signori parlano nel sesto libro la tematica varia non so le cortigiane o i filosofi gli schiavi i cibi i pesci di libro in libro si discetta su questi argomenti con una profusione di dottrina strepitosa perché questo uomo questo signore di cui sappiamo ben poco se non l'opera sua che ci è giunta per giunta mutile all'inizio quindi se parlava di sé questo ce lo siamo perso era vissuto in Egitto nell'area diciamo così Alessandrina prima che la grande biblioteca venisse distrutta da Aureliano imperatore romano quando riconquista l'Oriente contro Zenobia quindi aveva una disponibilità alla fine del secondo secolo inizio terzo lui scrive una disponibilità strepitosa di erudizione di fonti infatti cita autori cita solo lui uno in particolare ci viene in taglio si dovrebbe chiamare ctesicle oppure stesicle dipende dalla grafia non sappiamo quest'uomo ci è arrivato tramite un solo frammento citato da Ateneo il quale dice nel decennio in cui governò ad Atene Demetrio Falereo 316 306 avanti Cristo lui non dice avanti Cristo diciamo noi fu fatto un censimento ed è l'unico censimento Atenese a noi noto dal quale risultarono 21.000 cittadini cittadini vuol dire cittadini pleno iure cioè maschi adulti in età militare e a ciascuno di questi bisogna aggiungere altre unità familiari ombra donne figli minori quindi 21.000 moltiplicato tre moltiplicato quattro sono le persone di area libera libertà 10.000 meteci cioè stranieri che vivono ad Ateneo anche molto ricchi il padre dell'oratore Lissia era ricchissimo però non era un cittadino era un siracusano non era un cittadino atenese in casa sua si svolge la repubblica di Platone secondo Platone però non va all'assemblea non conta nulla politicamente e 400.000 schiavi dice questo apriti cielo a questo punto ma non è possibile saranno 40.000 io sono del parere che i testi prima di manometterli bisogna stare un po' attenti a leggerli per intero la pagina in cui figura questa notizia è piena di cifre non le voglio elencare tutte perché non sono così cattive ma ce n'è una interessante nella costituzione poiteia di Egina dell'isola di Egina di Aristotele perché Aristotele ha scritto 250 o 150 costituzioni cui descriveva il funzionamento di tantissime comunità Cartagine Sparta Bisanzio Atene eccetera eccetera Egina secondo questa notizia sempre nella stessa pagina di Ateneo c'erano 450.000 schiavi ora una volta Momigliano Arnaldo Momigliano ce l'aveva un po' con queste cifre e quindi un pochino anche con me che lo difese diceva ma chi gli dava da mangiare a tutta questa gente dove trovavano il grano a parte che non era il Prius diciamo del padrone dare da mangiare se moriva uno c'era un altro nelle miniere si moriva a 30 anni miniere della Spagna in Egitto eccetera però probabilmente la cifra di Egina riguarda non un momento riguarda un'epoca una fase non soltanto un anno preciso quello di Atene è più interessante perché è un censimento nel medesimo contesto il bravo Ateneo dice ma poi ci sono altre notizie per esempio il ricchissimo Niccia Niccia era l'uomo più ricco di Atene aveva mille schiavi minatori perché gli dettero l'appalto delle miniere di argento dell'Aurion proprio nella punta estrema insomma sono cifre abbastanza credibili il simpatico Tocqueville quando racconta queste cose dice erano 350.000 quindi fa uno sconto di 50.000 è abbastanza buffa come trovata sto un pochino celiando in realtà gli studi demografici su quell'epoca hanno avuto un forte impulso per esempio da Beloc e da tanti altri l'essenziale è noi fingiamo di non sapere che il fenomeno schiavile prodotto dalla guerra perché la guerra è la fonte principale della schiavitù è un fenomeno di massa Aristotele o chi per lui perché l'economico di Aristotele non si sa bene se sia suo o no dice non mettete mai nello stesso ergastolo l'ergastolo è una specie di carcere dove si mettono gli schiavi o anche a Roma capo i gladiatori quelli che parlano la stessa lingua perché si coalizzano e si ribellano allora questo allude a che cosa al fatto che ci sono masse di schiavi di provenienze diverse perché si ribellano in Sicilia nel 135 perché sono tutti siriaci e quindi parlano tutti la stessa lingua e uno si fa passare per un dio un sovrano ispirato eccetera e li porta alla ribellione per cinque anni inchioda i romani quindi il fenomeno schiavitù di età diciamo classica intendendosi il tardo quinto secolo il quarto secolo la repubblica romana è un fenomeno di massa enorme mentre si possono trovare casi specifici ma numericamente molto delimitati quindi interessantissimi formalmente simili ma di fatto poi diversi gli iloti erano tantissimi si ribellavano ciclicamente la terza guerra messenica perché poi erano sostanzialmente messeni ha messo Sparta in pericolo tanto che ha chiesto aiuto ad Atene che gli ha mandato 20.000 opliti capeggiati da un uomo che si chiamava Cimone figlio di Milzia del vincitore di Maratona che era talmente patito di Sparta che aveva chiamato suo figlio lacedemonio lacedemonios e pericli diceva forse non è un Atenese perché pericli detestava Cimone ce li hava perché chiedono aiuto perché si vedono perduti se questa massa si ribella e per quanto gli spartiati siano armati fino ai denti sono pochi questo è l'elemento connotante che ci fa capire il funzionamento concreto in determinati momenti quando Posidonio parla della schiavitù che deve essere filantropica lui ha in mente una cosa precisa le miniere effettivamente il possesso delle miniere è una posta in gioco fondamentale Atene si è impadronita delle miniere d'oro della Tracia Tucidide era il gestore di quelle miniere tra l'altro la sua ricchezza dipendeva di lì i romani hanno puntato alle miniere della Spagna il fatto che una delle prime terre che hanno voluto possedere fosse la Spagna non nasceva dal fatto che avessero una simpatia per quel mondo lusitano perché lì c'erano delle miniere di cui si sono impadroniti un capitolo delizioso del primo libro dei Maccabèi quando parla del patto tra lo stato ebraico degli Asmonei e Roma Giuda Maccabèo dice bisogna trattarli bene questi romani perché sono riusciti a impadronirsi di terre lontanissime come la Spagna perché volevano le miniere Posidonio filosofo stoico ritiene che la miniera sia violare la madre terra se io cerco quello che è nascosto sotto terra sto violando sto compiendo un gesto quasi dissacrante allora lavorare in miniera è un crimine evitate della sua filantropia nasce più che dall'interesse alla condizione umana da questa convinzione che la terra non va violata altro elemento che fa parte del quadro poi decade decade col tempo non è perché nel tarda età imperiale non c'è più una massa di schiavi perché ci sono altre forme di dipendenza il colonato non è finita con la rivoluzione no non è finita infatti vi porto a oggi ancora perché cerco di come dire di portarvi e vi chiedo se è possibile risposte brevi in modo da dare la possibilità anche a chi ci ascolta di porre altre domande a parte questa mia che credo sia l'ultima che posso porvi il professore diceva che a produrre poneva l'accento appunto sulla quantità sulla massa degli schiavi e diceva come principale fonte di produzione della schiavitù c'erano le guerre una volta si andava si faceva si faceva botte e chi vinceva aveva gli schiavi garantiti oggi c'è un altro tipo di guerra che è più economica commerciale geopolitica e vi vorrei portare in una sorta di mappa ideale nelle nuove schiavitù dico le prime due che mi vengono in mente e concludo con la domanda ma se vi vengono in mente ovviamente altri esempi sono ovviamente preziosi si va verso est verso l'oriente a cercare madri surrogate meno tutelate di quelle che si cercano a occidente il traffico di organi su cui ogni tanto ci sono inchieste che scoprono vasi di Pandora le braccianti del sud Italia in Sicilia o nelle piane della raccolta degli agrumi o dei pomodori che sono non solo schiave professionali ma spesso schiave sessuali dei caporali allora la domanda finale sono solo tre esempi ne potremmo fare mille che hanno a che fare anche con l'erosione di diritti acquisiti che non vengono che non si viene messi nelle condizioni di esercitare quindi diritti solo su carta e non su carne la domanda però finale è le democrazie la nostra prendiamo la nostra che tanto noi andiamo troppo in giro sono diventate così deboli da non poterle neanche riconoscere quelle forme di schiavitù altrimenti sarebbero in qualche misura costrette a sanarle costrette a fare in modo che quelle nuove schiavitù che sono di matrice economica e non bellica vadano esaurendosi sono così funzionali al mantenimento della democrazia le schiavitù paradossalmente la democrazia italiana è pienamente noi siamo pienamente consapevoli di avere in casa degli schiavi e di usarli a fine si è in grado certamente di combatterlo meglio di quanto non accada altrove ma il caporalato per esempio esiste in Italia su questo è indiscutibile no? è certamente meglio che altrove leggevo a proposito di questo discorso delle del in paesi giustamente le cerchiamo di solito in oriente ma anche in Europa e comunque nel medio leggevo di una forma di vera e propria forma di schiavitù ma di schiavitù generalizzata nei paesi dove si produce il cotone dove c'è questa produzione di cotone tale così importante che diventa che lo Stato non costringe praticamente praticamente non giuridicamente ma tutti qualunque sia il loro tutti i cittadini qualunque sia il loro mestiere a fare dei servizi cioè di andare a raccogliere il cotone e a me viene in mente la servitù generalizzata di cui parlavamo prima questo accade io ho letto in Uzbekistan in particolare ci sono anche oggi ci sono anche queste forme di schiavitù generalizzata che si riproducono in alcuni paesi non lontanissimi da noi poi non dall'altro capo del mondo la domanda era pungente non era una domanda innocente la sua le domande non lo sono quasi mai era pungente perché lei chiedeva giustamente come mai l'esempio italiano ma si potrebbe allargare ad altre realtà uno Stato che si proclama democratico eccetera chiude un occhio sul fatto che la schiavitù si è incistata stabilmente in aree cospicue del paese era questa la domanda sì si potrebbe dire di più che addirittura il nostro ordinamento costituzionale l'articolo 10 della costituzione che stabilisce che lo straniero nel cui paese non vigono le norme democratiche vigenti in Italia a diritto d'asilo norma disattesa quotidianamente quotidianamente in più confini dall'alto da che cosa dipende dipende dal fatto che per ora è una realtà numericamente delimitata rispetto all'intero realtà dell'intero paese e non è assolutamente tutelata da nessuno tranne da singoli eroici sindacalisti che rischiando la vita perché il caporalato poi è anche criminale mafioso omicida quindi rischiare la vita in senso stretto non metaforicamente si accollano la difesa di questi lavoratori schiavi questo è il fenomeno per ora è un fenomeno numericamente così limitato che i cosiddetti partiti democratici non se ne occupano perché non sono dei voti nel frattempo i voti sono scomparsi per cui metà degli aventi diritto non vota ma questo vedremo poi come si svilupperà e forse sarà un campanello d'allarme interessante mettersi dalla parte della minoranza oppressa non è facile è molto scomodo poi non è neanche redditizio però è l'unica cosa giusta da fare